E' la moda delle notte bianche in tutti i settori e in tutti i luoghi, anche il nuovo assessore allo sport Fabio Caracausi inizia la sua attività politica con questa bella iniziativa che di certo è gradita a tutti gli sportivi della città, nonché a tutti i protagonisti del mondo dello sport e perché no anche a tutta la città nel suo complesso, pece, i commercianti e gli artigiani del centro storico e non solo che potranno fare affari approfittando della notte bianca dello sport. L'occasione è data dalla importante gara automobilistica che si celebra domenica sul circuito di Capodarso, che finisce sempre per coinvolgere tutta la città e quindi ecco che l'assessore Caracausi è riuscito a coinvolgere in pochissimo tempo il Cone e il Cisain, portando in centro e non solo tante discipline sportive che trasformeranno per una lunga serata il centro della città in una vera e propria palestra sportiva dove tutti si esibiscono e fanno festa gareggiando sportivamente per aggiudicarsi una qualsiasi vittoria partecipando alle gare organizzate con grande stile e preparazione dalle società sportive. Il centro storico e non solo si tingerà di tutti i colori dello sport, in ogni angolo una partita, una gara, un'esibizione, una dimostrazione e tutti felici e contenti trascorreranno una lunga serata in allegria in attesa del rombo dei motori che domenica mattina celebreranno la gara automobilistica. E' di certo un momento positivo, una congintura positiva definita dal sindaco Gambino, quella che la città sta vivendo dove tutti partecipano alle iniziative da qualsiasi parte provengano, cosa che negli ultimi tempi era esattamente al contrario nel senso che nessuno voleva più partecipare a qualsiasi iniziativa a presenza comunale. Le gare si svolgeranno anche fuori dal centro storico per via della peculiarità delle discipline sportive, incontrata a musta esibizione di equitazione. L'augurio che tutti sperano è che anche questa iniziativa possa essere annoverata tra i successi della nuova amministrazione così come lo è stata la precedente dello scorso fino settimana che ha registrato un successo inaspettato da tutti, compreso dagli organizzatori. Segno questo che qualcosa sta cambiando o quantomeno della voglia di cambiare da parte della città. Tutte queste iniziative vanno da preludio alla grande festa del padrono San Michele Arcangelo che prevede per quest'anno per la prima volta importanti novità che faranno ricordare la festa del Santo Padrono per tanto tempo. Anche se purtroppo il regolamento e le direttive fiscali in vigore impediranno la realizzazione dei tre grandi archi trionfali previsti per la festa in quanto pur essendo esclusive e non copiabili necessitano del DURC e di altre autorizzazioni burocratiche e quindi non potranno realizzarsi almeno per quest'anno.